Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Teleitalia. Secondo gli ultimi sondaggi, gli italiani si sono rivelati anti-europeisti. La stragrande maggioranza, quasi l'80%, è per uscire dall'euro o uscire dall'Unione Europea o uscire da tutti e due. Ho fatto proprio un sondaggio, due video precedenti a questo, che parla proprio di questo tema. Matteo Salvini dice che mancano 7 giorni per l'Europa, vi ricordate che Conte ha detto che vi do 10 giorni per trovare una soluzione? E Salvini sta contando i giorni ed evoca l'Ital Exit, cosa che secondo me sarebbe la cosa più giusta. Quindi 7 giorni per salvare l'Unione Europea. Il leader dei 27 Paesi membri, dopo il muro contro muro nell'ultimo vertice, cercano una mediazione sul piano che dovrà arginare gli effetti negativi sull'economia dell'emergenza sanitaria attuale. L'obiettivo è evitare una spaccatura tra il fronte, nove nazioni, quello del sud, dove c'è l'Italia, Francia, e i paesi del nord, guidati da Germania e Olanda, fermi sulla linea del rigore. Quindi è una diatriba tra nord e sud dell'Europa. Vanno avanti le trattative, ma mentre in Italia sale la tentazione, non solo tra i leader politici, ma tra tutti, anche il sondaggista Antonio Noto, dalle pagine della Nazione e Resto del Carlino, sostiene che la fiducia degli italiani verso l'Europa è crollata al 25%, quindi un 75-80% che vuole uscire da questa Unione Europea. Quindi la tentazione non è solo politica, ma è anche proprio un sentimento del popolo italiano. E quindi c'è un braccio di ferro tra i due blocchi europei, ma io credo che ci vuole l'unanimità e non passerà mai, figuratevi come non è passata mai una soluzione unica sugli sbarchi, sui migranti, non passerà neanche questa, mai, è un'utopia. E così il leader della Lega, Matteo Salvini, rimette sul tavolo l'ipotesi di un'uscita dall'euro e dice che si stampasse moneta la Svizzera, compilando un foglio, ti mette a disposizione fino a 500.000 euro. La Gran Bretagna ti garantisce fino all'80% dello stipendio. Negli Stati Uniti destinano fino a 2.000 euro a famiglia. Loro possono farlo, noi no, perché abbiamo l'euro. E questo ha ragione, lo dice al Corriere della Sera in un'intervista a Matteo Salvini. Per Salvini, se la Commissione UE guidata da Ursula von der Leyen continua a fare spallucce, c'è una sola strada. Un'emissione di titoli italiani con un tasso di vantaggio, oggi l'Unione Europea, non lo permette. Perché? Perché l'Unione Europea permette che tu emetta titoli di Stato, ma che lasci al libero mercato la tassa di interesse che ne viene fuori. Cioè, l'Italia vuole piazzare 25 miliardi di euro in titoli di Stato, quindi sta chiedendo un prestito a chiunque li vuole comprare. L'interesse che lo Stato deve dare a chi compra i suoi bot, deve essere stabilito dalla legge di mercato. Domanda e offerta. Se si offre poco e la domanda è alta, l'interesse è basso. Se si offre tanto e chi vuole comprare sono pochi, l'interesse schizza in alto. Quindi non si può ammettere un tasso di vantaggio stabilito dall'Italia. Dice, questo è l'interesse che io ti do, punto e basta. No, deve fluttuare secondo come si muove la domanda e l'offerta appunto per comprare questi bot. Non si può neanche stampare moneta perché è vietato. I paesi membri dell'eurozona, quelli che adottano l'euro, hanno il divieto di poter stampare la moneta. È solo la Banca Centrale Europea che stampa la moneta. che ha l'autorizzazione. Quindi non si può produrre monete. Dice, ah, accendi la zecca e stampami 50 milioni che li devo dare a Tizio Caio Sempronio. Non si può. È per questo che l'unico modo di avere dei soldi è chiederli in prestito. Ovviamente o ce li hai di tuo, ma l'Italia non ce li ha. Ce li hai di tuo messi da parte, non ce li ha. ha l'oro messo da parte, ha una riserva internazionale in moneta straniera che serve in casi eccezionali. Quindi l'Italia non ha un suo conto corrente con un po' di soldi su. non ci sono. È tutto a debito. Sul conto l'Italia non ha niente. Non c'è un conto, ma se avesse un conto è zero. Quindi è tutto a prestito, come gli altri paesi. O hanno soldi di loro o devono fare un prestito. È questo che vorrebbe evitare Matteo Salvini dicendo torniamo, usciamo dall'eurozona, quelli che adottano l'euro, così non abbiamo più problemi, ci possiamo stampare noi le lire, se torniamo alle lire. Quindi alza il tiro contro l'Europa anche il ministro degli esteri Luigi Di Maio che dice l'Europa oggi ha la possibilità di dimostrare solidarietà verso uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea. Noi faremo tutto il possibile per il nostro popolo, ma l'Europa faccia la sua parte. No a egoismi, serve coraggio, dice in un'intervista a Euronews. Nel PD, il partito più europeista, l'imbarazzo è forte, tanto che l'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, commissario dell'Unione Europea agli affari economici, è costretto a intervenire e dice la parola chiave è solidarietà, «Serve un piano comune per la rinascita dell'Europa? I diversi governi devono trovare un accordo?» commenta il TG5. Del resto, senza un piano comune, continua Gentiloni, nessun paese, nemmeno quelli più ricchi, riuscirà a uscire da questa terribile crisi. E suggerendo, in un'intervista alla stamp, l'idea di potenziare la BEI, si tratta della Banca Europea degli Investimenti, ma tra le proposte citate da Gentiloni c'è anche l'utilizzo del MES o di altre istituzioni europee per collocare bond e finanziare i progetti necessari. Certo, nel MES ci sono 410 miliardi di euro. Come mai ci sono questi soldi? Perché i paesi li hanno versati. Ogni paese, in base alla sua economia, in proporzione alla sua economia, ha versato dei soldi in questo fondo. è un fondo che raccoglie i soldi di tutti i paesi per aiutare i paesi eventualmente in difficoltà, con un tasso di interesse agevolato, molto agevolato. Naturalmente il MES, per essere attivato e dare questi soldi, ti devi praticamente quasi dichiarare fallito, se non dichiarare fallito. Sotto il controllo dell'Europa, ti do i soldi, ma ti controllo quello che fai. Ma il piano comune non c'è, quello invocato da Gentiloni, non esiste e non ci sarà. Attenzione che tra sette giorni, come diceva Conte, non ci sarà nessuna risposta. Ma ha detto il Consiglio che si riunirà dopo 15 giorni, quando Conte ha detto 10 giorni. Quindi non ne mancano 7, ma ne mancano 12. E intanto la tragedia continua, la crisi continua, e l'Europa prende tempo, ma tanto non ci sarà nessun accordo, nessuno. Sono troppi i paesi contro la solidarietà economica a tutti i paesi. Quindi il Consiglio dell'Unione Europea ha incaricato la Commissione di elaborare una proposta per la ricostruzione. Italia, Francia e altri sette paesi chiedono l'emissione comune di Eurobond per raccogliere i miliardi da destinare all'emergenza. Una proposta che incassa il sostegno dell'ambasciatore americano in Italia, Lewis Mitchell Heisenberg. Ma la presidente von der Leyen non molla. Il fronte del no inizia però a scricchiolare. Tre paesi baltici e la Slovacchia, da sempre a favore dell'Europa del Nord, sarebbero pronti a sottoscrivere la richiesta degli Eurobond. Altra strada, suggerita dai ministri PD, Roberto Gualtieri e Enzo Amendola, è il ricorso al MES. Il fondo salva stati. Ma c'è l'ostacolo delle condizionalità, cioè le clausole, chiamiamole le clausole. L'accesso al fondo contiene il rischio di una richiesta di ristrutturazione del debito pubblico. Quindi, vuoi che ti do i soldi? Devi ristrutturare il debito pubblico. E ristrutturare quello italiano è impossibile. È uno dei più alti del mondo, al 140%. Ristrutturarlo vuol dire abbassarlo, e per trovare quei soldi per abbassarlo, i soldi per abbassare il debito pubblico italiano sono molti di più di quelli che l'Italia chiederebbe al MES per la crisi. Quindi è un cane che si morde la cosa. Quindi ipotesi già bocciata dal capo dello Stato, Sergio Mattarella. Quindi questa è la situazione attuale. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, e siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.